Antonio, delegato da Manfredi, onore di signora di conoscere, per ringraziarla della visita la famiglia le fa dono della litografia che tutti i familiari della famiglia Borsellino, ovviamente Paolo Borsellino e Agnese Borsellino che riposa qui adesso in alto la signora, le ha fatto anche una piccola dedica, la famiglia ha gradito immensamente la sua. Ci hanno avuto il tempo di procurare un contenitore esterno degno, ci siamo arrangiati con quello che abbiamo avuto, davvero ne sono onorato, e in tutte le famiglie della famiglia Borsellino. Grazie, grazie veramente. Anche a mio, io le potrei tanto parlare con voi, in inverno, chiacchieriamo su tante cose importanti per il nostro stato. Molto, molto. Bene, questo è un albero che l'artista ha fatto, lo sarebbe chiesto. Come non. Grazie.